MPT Solutions nasce nel 2016 con una grande voglia di cambiare la visione della formazione sanitaria. Abbiamo costruito un team multidisciplinare formato da medici, infermieri e paramedici. Il corso di procedure anatomiche d'urgenza riguardante l'area critica, l'anestesia, l'emergenza, la medicina intensiva, dove i nostri discenti si troveranno a praticare tutte le skill riguardante questa area su un preparato anatomico umano con la possibilità di avere un segno a loro fianco passo passo che li guiderà all'acquisizione di ogni singola competenza. Il nostro progetto è quello di poter espandere questa tipologia di formazione in tutti quegli stati che attualmente non possiedono questa grande opportunità. Il nostro pensiero non è quello di tenerci dentro di noi quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo visto e che continuiamo a vedere grazie anche a ulteriori viaggi che facciamo ogni anno. Abbiamo quindi la voglia, la necessità, perché il mondo lo richiede, di poter donare tutte queste conoscenze e insieme ad altre persone crescere e poter creare altri centri, poter creare altre possibilità e altre opportunità per tutti i professionisti del mondo.